Siamo qui a festeggiare i 30 anni di Medialettra, 30 anni come li abbiamo definiti, 30 anni di connessioni. Con noi c'è l'ingegnere Maurizio Sorce, il responsabile di programmazione, investimenti, innovazione e sistemi informativi di Sicilia Acque e Angelo Badalamenti, il direttore generale nonché mente della Medialettra. Abbiamo fatto un apporto pubblico, con l'appalto si era giudicato un'impresa che non conoscevamo, con la quale non avevamo mai lavorato, che era la Medialettra. L'appalto è stato un successo, sia in termini di soluzione che in termini di qualità del lavoro eseguito. l'impianto è ancora in esercizio e ha delle opzioni aperte.